Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 code tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna e in uscita Barberino di Mugello provenendo da entrambe le direzioni. In A11 l'area di servizio di Migliarino Sud in direzione Firenze ha il camper service chiuso per un guasto all'impianto. Sulla statale 12 della Betone del Brennero, da domani fino a venerdì in orario 8.14 sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Popiglio. Sulla strada regionale 429 di Valdelsa fino a venerdì in orario 7.18 deviazione del traffico veicolare tra i chilometri 43.500 e 43.700 in località Zambra nel comune di Barberino Tavarnelle. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!